Parliamo con Iob Zambataro della gara vinta facilmente oggi, ma avete forse qualche piccola complicazione all'inizio, un po' di frenesia per sbloccarla? Sì, al primo tempo abbiamo fatto molta fatica, loro erano molto chiusi, lavoravano bene di reparto, poi con il cambio del modulo da parte del mister e dopo il primo gol siamo riusciti a sbloccarla e abbiamo trovato anche gli spazi per farli male, poi il 5-0 è frutto di queste combinazioni tra il centrocampo e l'attacco. Come ti sei trovato nel ruolo inedito per te di centrocampista interno? All'inizio ho fatto molta fatica a trovare gli spazi giusti, tendevo più a inserirmi anziché farmi dare la palla tra le linee, invece nel secondo tempo, quando il mister ha cambiato il modulo a giocare a due, mi sono trovato a mio agio, infatti lì sono riuscito anche a dare qualche palla importante ai miei compagni e infatti sul quarto gol, se non sbaglio, ho fatto un bel assist, diciamo. Partita vinta facile, questo dà la sicurezza, quasi certezza del secondo posto che è un bel obiettivo raggiunto, quasi. Sì, noi adesso ci mancano le ultime due partite, dobbiamo continuare a far bene, non dobbiamo assolutamente accontentarci del secondo posto, ma se è possibile arrivare anche al primo posto, in modo tale da incontrare una squadra abbordabile alle Final 8.